Da questa esperienza, come aspetto professionale, spero di crescere e comunque aprire le porte a un mondo che non conosco, qual è il lookmaker appunto, e a livello umano spero di conoscere tante persone e comunque divertirmi, perché comunque lo si fa anche per divertimento e niente, basta. A fine di questo viaggio mi vedo professionalmente cresciuto e mi apro le porte praticamente però ad un mondo che finora non conoscevo, qual è appunto il lookmaker. La prova è andata benissimo, ho fatto quello che avevo in testa, quello che sentivo mio, e l'ho fatto con tutta la passione che potevo metterci, ce l'ho messa dentro con i giudici, è andata esattamente come mi immaginavo, i giudici sono wow, sono top, la tua specie a Maria Grazia è di una compostezza assurda. E adesso mi sento un gravino sopra gli altri, più realizzato di prima, e con un bagaglio che mi porto a casa, nuovo oltretutto, e che mi piacerebbe comunque approfondire, perché comunque io sento come parte di me. La settimana è stata intensa, ho conosciuto tante persone nuove, ci siamo approcciati in vari modi, la rifarei e consiglierei anche di farla perché è un'esperienza comunque che ti completa molto a livello anche umano. È stata meravigliosa, stupenda. Grazie. 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 Grazie.